Ciao ragazzi, ciao a tutti, è finita pochi secondi fa, Milan-Atalanta 3-0, sono qui per fare il mio classico post partita del Milan Fa male, l'unica lauta ricompensa o comunque favore è che l'Inter non vince a Udine e quindi il Milan rimane primo da solo a due punti dall'Int, per il resto c'è poco da dire, 70 minuti di netto dominio Atalanta, andavano al triplo, netto dominio sulle seconde palle non riuscivamo ad uscire, non ne tenevamo una, arrivano sempre prima loro, pressing asfissiante, grande gioco, grandi cambi di gioco noi sempre in difficoltà, sempre ad arrancare e niente, niente da dire, il Milan che forse all'inizio, proprio i primi primi minuti inizia un po' meglio, poi si perde del tutto, esce l'Atalanta, fa Ilicic immarcabile, abbiamo preso una rumba incredibile giusto così, cioè non si può sempre vincere prima o poi, abbiamo perso giustamente, testa alla prossima, non è successo niente è normale perdere qualche partita, soprattutto io credo che con questa Atalanta di stasera in Europa neanche in Italia, in Europa poche squadre riuscivano a fare punti, veramente poche squadre che è una squadra veramente totale, di qualità, di quantità, di energia, di foga, di pressing organizzata dunque niente da dire, cioè del Milan salvo solo Chier, che è riuscita ad arginare, neanche a annullare Zapata, di rompente Ilicic, chiuso secondo me molto bene da Calullo Calullo secondo me, a parte il gol di Romero, che tra l'altro ha fatto anche assist, gioco calcio totale saltano tutte le marcature e tutto a parte appunto il gol di Romero, io Calullo l'ho premiato perché comunque Ilicic è venuto fuori già nel primo tempo, ma nel secondo soprattutto con l'uscita stranamente si è fatto male un nostro giocatore, ormai non fa neanche più notizia è entrato Mandzukic, mi è piaciuto lo spirito con cui è entrato, volenteroso, ha tenuto qualche pallone correva, si vede che non è ancora in condizione Ibra, niente, cioè veramente Milan male, non abbiamo giocato bene ma anche tanti meriti dell'Atalanta, io dico che sono tanti meriti dell'Atalanta adesso abbiamo tre partite sulla carta, che poi vediamo che il Bologna comunque va contro la Juve, vediamo cosa farà, c'è lo Spezia che ha fatto, ha dato fastidio alla Roma c'è un Crutone che gioca calcio, dunque le prossime tre partite da prendere con le pinze c'è il derby martedì, diciamoci un segno nella croce, speriamo in qualcosa e spero che questa sconfitta serva a fare un po' un bagno, neanche di umiltà perché io ho visto anche il Milan verso la fine sempre uguale non ho visto un Milan disunito, strano, diverso sotto ritmo ovviamente, sotto aspettative però l'idea di giocare è quella, vedo un Calabria che si inseriva bene nel centrocampo mancava, ne avevano di più, arrivavano prima hanno giocato meglio, hanno meritato, complimenti a loro, complimenti all'Atalanta ha meritato questa vittoria, il Milan ha giocato male e niente, niente da dire un Milan che appunto rimane primo, si laurea campione d'inverno io ci avrei firmato se mi avessero detto a settembre sei primo a più due dalla seconda al 25 gennaio, 24 gennaio, quanto siamo 23 gennaio e è perso solo due partite in campionato con Juve e Atalanta, cioè non è che abbiamo perso con veramente gli ultimi arrivati dunque, sono contento, sono orgoglioso di questi ragazzi magari domani farò un video un po' a mente fredda così iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete, commentate il video io vi saluto, bella ragazzi grazie grazie